Né cappio mediatico né condanne esemplari, l'atteggiamento antiforcaiolo del Comitato Bussi ci riguarda ha un solo obiettivo, la bonifica dei luoghi, presto e bene. Per accelerare questo processo e tirarlo fuori dalle lungaggini della giustizia si è fatto ricorso allo strumento del confronto fra lo stesso Comitato Bussi ci riguarda e Edison. Praticamente è stata avviata una procedura che è prevista dal nostro ordinamento di mediazione ambientale, è una procedura dove si tenta di trovare un accordo tra le parti evitando lungaggini dei tribunali, lungaggini di una causa civile e così via. Noi abbiamo inoltrato questa proposta e quindi l'incontro ci sarà presso la Camera arbitrale di Milano, Milano perché è la sede legale di Edison, per stabilire A se le parti vogliono procedere in questa direzione, B un percorso su che cosa fare. Parliamoci chiaro, dopo la sentenza di secondo grado che c'è stata, che ha confermato tutti i fatti, ancorché poi andati in prescrizione per le tempistiche, sicuramente si avvieranno delle cause civili che dureranno, se va bene, dieci anni ma anche di più. Noi non possiamo aver fatto trascorrere i dieci anni precedenti nonostante un commissariamento eccetera con scarsissimi risultati e ulteriori dieci anni prima di mettere mano a una bonifica e fare delle cose. E quindi in maniera molto diretta abbiamo detto a Edison per quanto riguarda la nostra piccolissima parte, che poi sono le associazioni Italia Nostra, Mare Vivo, Mila Donne Ambiente e Bussi ci riguarda, già all'epoca tutte ammesse come parte civili. Per quanto ci riguarda apriamo questo tavolo, speriamo che altri si aggiungano a questo tavolo. Il peso più grande qui c'era il Ministero dell'Ambiente perché il tema del danno ambientale è di competenza statale. Siamo molto preoccupati dalla situazione attuale perché dopo dieci anni è stato fatto pochissimo. I soldi ci stanno, ci stanno i progetti per la rimozione delle due discariche 2A e 2B e non si è proceduto a niente. In sostanza se Edison dovesse consentire si farebbe carico in quota parte di questa bonifica non arrivando a sentenza per i danni? Sarebbe questo l'accordo, un accordo transattivo che poi eviterebbe le cause? Sì esattamente, è un accordo transattivo dove si può stabilire che cosa fare, un percorso, farlo bene, farlo subito, farlo in maniera efficace. Se il 7 marzo quando abbiamo la prima riunione Edison si presenta e dà la sua disponibilità, si aprirà un tavolo in cui verrà tutto definito e chiaramente vi terremo informati. Grazie.